Era importante più che il gol mio dare continuità a questo filotto, siamo arrivati a otto vittorie consecutive, però come dice il Mettor è ancora molto lunga e pensiamo subito alla San Giustese e sarà un'altra partita tosta. Anche perché la San Moresi mi ha messo in difficoltà, ci ha provato specialmente nella parte centrale della partita. Ma qua fanno fatica a tutti, ha perso il San Nicolò, ha perso il Matelica, questa è una buona squadra allenata da un buon allenatore, dove sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà, però le squadre forti riescono anche a saper subire e noi abbiamo saputo subire bene e siamo riusciti a chiuderla e portare a casa questi punti. Sembrava di essere tornati indietro di un mese, Castelfidardo, palla tra le linee, in verticale per Alessandro, gol del vantaggio, qui è stata un'azione praticamente identica, molto simile per Ricciardo. Sì, eravamo usciti bene, ho ricevuto questa palla da campagna tra le linee, sapevamo che lì era il posto dove potevamo fargli più male, ho visto l'inserimento di Ricciardo e poi ha fatto anche un gran gol lui. Angelina ha detto che quando vedo i tifosi addirittura sulle collinette Cavalcavia è facile per un giocatore dare ancora di più sul campo. Sinceramente ci danno una spinta enorme, dal piano della mentalità, della corsa, della voglia di giocare daremo sempre il massimo. Poi gli errori sono umani, però sotto il piano dell'attenzione, della voglia e della corsa ti spingono a dare anche il 200%. Quindi andare avanti del piano dell'attenzione... PASIC DEMONIENTO